Importante attestazione di SEMA da parte del regista lucano Rocco Papaleo al lavoro della Lucana Film Commission. Il regista, durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo film a Roma, ha voluto sottolineare il suo apprezzamento per il lavoro svolto in questi primi mesi di vita dalla Commissione. E' per me motivo di orgoglio presentarvi qui a Roma, ha detto Papaleo, il direttore Leporace che in questi mesi ha lavorato molto per dare alla Basilicata, la mia terra, delle grandi opportunità per il mondo del cinema lucano e sono molto contento, ha aggiunto che Basilicata Cost to Cost abbia favorito la nascita della Lucana Film Commission. Soddisfatto il direttore Leporace, ringraziamo Rocco Papaleo per la vicinanza al nostro lavoro e alle opportunità che ci permette di raccogliere come grande rappresentante del cinema italiano.